Non hai spazio per stendere tutti gli indumenti dopo il lavaggio? Lo stand di biancheria occupa troppo spazio ogni volta che lo utilizzi? Devi aspettare che gli indumenti siano asciutti e stendere nuovamente per mancanza di spazio? Sono problemi che riscontriamo quando facciamo il bucato. Ma ora c'è la soluzione con... Tendo Spazio! Il rivoluzionario stendino verticale! Un prodotto con struttura metallica e una guarnizione ABS di alta qualità in plastica. Non si deforma, è resistente nel tempo ai cambi di temperatura e all'eccesso di peso. Tendo Spazio è uno stendino che reinventa il modo di stendere il bucato grazie al suo innovativo disegno verticale, risparmiando tempo e fatica quando sarà l'ora di stirare. Questo sistema geniale è ideato per stendere gli indumenti in spazi ridotti e dispone di un meccanismo esclusivo di basi retraibili connesse a 6 ruote di nylon rinforzato capaci di sopportare un peso fino a 60 kg e che vi aiutano a trasportarlo da un luogo all'altro della casa senza sforzo e con totale comodità stendendo gli indumenti. Le sue dimensioni sono tali che passa attraverso qualsiasi porta. Questo tipo di stendino verticale senza mollette facilita il bucato ed evita le pieghe. Tendo Spazio permette di appendere nei suoi 24 metri lineari di spazio 20 kg di indumenti, l'equivalente di 3 lavatrici. Così aspettare che si asciughino gli indumenti per stendere nuovamente non sarà più un problema. E questo lo fa senza occupare tutto il tuo soggiorno, balcone, sala o camera, come succedeva fino ad ora. Potrai porre il tuo stendino verticale in un piccolo angolo della tua casa e dimenticarti per sempre dei problemi di spazio. Pensato per i giorni di pioggia, eccesso di umidità, per monolocali e pavimenti piccoli, con la massima comodità. Tutto questo è possibile grazie al suo ingegnoso meccanismo espansivo che permette di riporlo in un luogo discreto della casa. E grazie ai suoi soli 13 cm di ampiezza, quando è totalmente piegato, puoi sistemare le sue 3 o 6 barre laterali a seconda dello spazio necessario in ogni momento, in quanto è completamente regolabile e retraibile. Tendo spazio, ha anche una barra superiore estensibile fino a 160 cm, ideale per stendere in totale comodità le tovaglie, copriletti e lenzuola di tutta la famiglia, grazie alle sue 3 barre rinforzate e regolabili in altezza. Ognuna di esse dispone di 9 sbarre metalliche dal design esclusivo con una finitura di pittura epoxy in bianco con trattamento anticorrosione. Una finitura di prima qualità, che la converte nel supporto perfetto per stendere tovaglie, magliette e asciugamani d'estate, e poi cappotti, jersey e tutto il vestiario dell'inverno. Questa nuova disposizione ha anche un sistema studiato di 72 ganci articolati nelle 6 ali laterali pieghevoli per stendere tutti i tipi di vestiti, anche quelli meno ingombranti come la biancheria intima, piccoli asciugamani, asciugapiatti, federe, bavaglini, con un semplice movimento. Tendo spazio ti regala anche un kit di 24 mollette che puoi utilizzare con qualsiasi tipo di gancio articolato, regalandoti così più facilità per stendere. E poi puoi aggiungere due supporti laterali pieghevoli, totalmente smontabili, la cui altezza si può regolare con facilità. È progettato per stendere gli abiti con gli appendini, come cappotti, abiti, camice, camicette, parca, foulard. Un sistema semplice per evitare che si stropiccino i vestiti e per facilitarne la stiratura. Chiama ora per informazioni su Tendo Spazio all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Moltiplica lo spazio per stendere in dimensioni ridotte. Moltiplicalo con Tendo Spazio. Chiama ora per informazioni.